Simonetta Di Giuseppe è una delle maestre della scuola primaria montale qui a Pescara, secondo incontro con i bambini che ricordano l'arte per mantenerla sempre viva. Esatto, perché noi riteniamo che la memoria costituisca l'identità di un territorio e non possiamo prescindere dalla memoria e teniamo saldi legami tra i nonni, i bambini e gli adulti perché proprio questo legame forte tra le generazioni costituisce una forte risorsa, uno spessore importante per noi. Questa è la seconda edizione di questo incontro, i bambini incontrano gli artigiani che nasce dalla collaborazione con la mostra dell'artigianato di Guardia Grele e quest'anno per la prima volta anche il Museo delle Gentili di Abruzzo. Abbiamo seguito un percorso, ogni classe, questo è un piccolo plesso di sole e cinque classi, ogni classe si è adoperata nella ricerca delle nostre tradizioni per cui la prima ha lavorato su un progetto della scuola di tanti anni fa, la seconda ha lavorato sul Natale di una volta, la terza sui giochi di una volta, qui abbiamo addirittura delle esposizioni e la quarta e la quinta invece hanno realizzato un calendario delle feste tradizionali di Abruzzo in collaborazione con l'Orafo Verna che ci ha anche fatto vedere e toccare i gioielli di una volta, quindi la presentosa, le sciacquaie, la cannatora, la morino. I ragazzi si sono entusiasmati, è stato un percorso ricchissimo e sicuramente non lo dimenticheranno. I ragazzi si sono entusiasmati, è stato un percorso ricchissimo e sicuramente non lo dimenticheranno. Grazie. Grazie.